Juve e Borussia match club che ho visto è stata diciamo una partita un po' opaca come prestazione per gli Juventini che secondo me sono stati bravi comunque a pareggiarla però l'ho fatto un brutto primo tempo che sinceramente non me l'aspettavo perché essendo una Juve mi sarei aspettato qualcosa in più da parte perché per come tradizionalmente la conosciamo come squadra è differente da quella che ho visto come atteggiamento però con i tedeschi è sempre dura perché il match club che ha fatto molto bene erano molto veloci e tutto questo ha condizionato la formazione di Ventina paradossalmente devo dire che in 11 contro 10 hanno giocato molto meglio e sono riusciti a pareggiare un po' di fortuna, un po' di tutto non guasta in queste partite però con la speranza che anche la Roma riesca a fare una bella impresa stasera però non c'è più le squadre come il Milan di una volta che andava avanti in Champions però ho fiducia insomma delle squadre italiane anche perché noi siamo italiani e è giusto che le italiane vadano avanti se no ci chiamano solo gli italiani mangio tutte, capite? e così vedremo quello che saprà dare la Roma sperando che faccia un'ottima prestazione perché se no farlo se no giocare a caccia l'hanno dimostrato un abbraccio e al prossimo video ciao ciao ciao